cari amici di l'uomo fuji italia benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato alla nostra applicazione amata per ios per montaggio video prima di iniziare il tutorial che molto semplice lo sapete avete già letto dei titoli vi invito al seminario del 6 ottobre 2021 alle ore 20 che terrò ovviamente su zoom per imparare al meglio ad utilizzare l'uomo fusion 3.0 per iscrizione ai costi andate su l'uomo fusion italia.it o l'uomo fusion.it detto questo passiamo al tutorial molto semplice come dicevo una sorta di titoli a rotazione che potremmo inserire nelle nostre presentazioni nostri filmati quindi andiamo a vedere subito di cosa si tratta iscriviti ora e attiva la campanella sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video grazie bene ragazzi per fare questo effetto ci servono due elementi fondamentali che sono i titoli allora andiamo a creare innanzitutto un titolo ok un titolo così lo andiamo a cambiare e scriviamo rotazione in su molto semplicemente ora questo lo andiamo a vedere dopo innanzitutto duplichiamolo andiamo di nuovo nello stesso eliminiamo il titolo e inseriamo una forma che una forma rettangolare scusate tutti i rumori che ci sono comunque non sono non fanno parte dei tutorial ovviamente andiamo allargarla bene ok che esca bene da questo è diciamo che non è importante per adesso e tanto per farvi vedere lo scritto se no non ha senso la rotazione andiamo a cambiare mettiamo facciamo una specie di banner che è più o meno giusto diritto ma va bene così non cambiare il fondo perché ovviamente il colore è uguale alla scritta accorciamo un po il nostro testo per fare una un'animazione un pochino più veloce e a questo punto io lascerei un pochino a questo punto possiamo andare a fare animazione la prima animazione molto semplice visto che rotazione in su dobbiamo andare a spostare y in su fuori ok dal nostro rettangolo e andiamo a memorizzare la chiave andiamo in fondo e lo mettiamo a zero vediamo un po la velocità cos'è com'è ok perfetto andiamo in taglia andiamo indietro e facciamo e lo tagliamo in su ok in giù scusate in giù fino a dove più o meno appare il rettangolo ok una chiave anche qui andiamo avanti e lo facciamo apparire anche qui finché appare il rettangolo ok andiamo a vedere un po cosa abbiamo combinato eccoli rotazione in giù lo andiamo a salvare ovviamente perché possiamo utilizzarlo in alto un altro titolo in su ma era in giù questa qua scemo facciamo così ragazzi facciamo fin da che non avete visto niente diciamo che andiamo a cambiare il testo ok allora sapete sono un po ok in giù perfetto adesso se io allungo questo ovviamente fermo l'animazione dove finisce ok adesso allungo il fondo ok adesso andiamo a fare invece la rotazione in su che era quella originale aspettate che torno indietro un attimino e mi vado a prendere copiare questo così ce l'ho un po più avanti come come misura ok questo lo mettiamo qui che è questo andiamo avanti a voglio far vedere una cosa ovviamente una cosa bella che ovviamente e poi che da come dire l'effetto non sei adesso vado a scriverci di qua dentro un'altra cosa ovviamente è l'effetto che volevo dare ok andiamo a vedere in sequenza un attimino tutti e due ok ok adesso di nuovo la sesta non ce l'ho però lo stesso facciamo a mozzo come si dice a nabola facciamo così andiamo qui facciamo più di nuovo rimpiccioliamo di nuovo questo quanto vogliamo e possiamo anche farla più veloce più lenta questa non è non è a nostra discrezione poi a parte che si adatta sempre all'interno quando io la carico in un in un testo diverso in un titolo diverso si adatta la lunghezza quindi non c'è problema allora rotazione questa in su ok rotazione in su e andiamo a fare lo stesso così abbiamo anche cancellato le chiavi in un colpo solo andiamo per lo stesso quindi a questo punto devo abbassarla nella mia scritta vado all'inizio del frame faccio così vado indietro e vado a posizionare un'altra scritta un'altra un'altra chiave vediamo un po non ci per il nuovo qua non esistono allora andiamo indietro e a questo punto devo andare in giù ok faccio così la faccio scomparire ok faccio una chiave vado avanti e la faccio ricomparire fino al rettangolo ok raccomando se no l'effetto non è effetto ecco lì adesso andiamo a memorizzare anche questa ho memorizzato due rotazioni in su no comunque non importa voi lo memorizzerete meglio andiamo avanti anche qui facciamo così anche qui facciamo così duplichiamo questo lo andiamo a infilare in coda andiamo a cambiare anche qua dentro il nostro testo ok in luma film ok andiamo a vedere un po i due effetti ok molto carino poi come ho detto potete regolare la velocità in base alla lunghezza del vostro titolo ma come faccio ad adattare il mio titolo in un filmato in un video che non è centrato al centro proprio dello schermo quindi andiamo a caricare uno sfondo filmato sfondo come volete chiamarlo andiamo indietro creiamo un titolo ok e in sovraimpressione andiamo a cambiare all'interno la dc turno il mare blu ok a questo punto cosa faccio vado ad applicare il mio effetto ok quello che viene da giù ok cioè quello che va in su vediamo un po se questo ok quindi adesso cosa devo fare innanzitutto devo cambiare la posizione uno vedete che arriva qui quindi devo andare qui e salire ok qui poi vado indietro e gli cambio la posizione anche qui quindi qua qua va bene un po' più indietro per essere sicuri ok e vado a memorizzare questa chiave vado all'inizio elimino questa chiave e la rimemorizzo praticamente questo questa posizione vado a quest'altra chiave e la cancello ora devo stessa fare cosa qui dalla mia parte della diciamo del del taglia quindi devo andare a scoprire cioè va bene così ok perfetto vado avanti ok e vado a scoprire qui la mia scritta vediamo un po' ok allora innanzitutto posso cambiare l'aspetto del mio testo per renderlo più grosso e poi cambia di colore posso andare a fare un pic ok e variare il colore del testo in base al mio al mio background il mio al mio filmato e questo punto posso andare anche a provare un po' a miscelare questo questo testo con i vari i vari fusioni di livelli che a mio avviso sono molto belli perché poi se vado sempre in testo e vado a variare anche non so perché non lo vedo più perché stesso colore giustamente l'opacità e l'ampiezza del mio bordo dovremo avere un effetto carino il bordo si è tolto perché forse sono in schermo vado a cambiare anche il colore del bordo vedere che succede allora andiamo qua bordo lo cambio lo metto giallo vediamo che succede ok andiamo un po' qua guardate un po' che con due clicchini abbiamo fatto una meraviglia ok se poi io sapete che sono le cose semplici quindi poi ovviamente posso aggiungere un fade qua avanti per non far vedere ovviamente la mia scritta che entra faccio così e tutto si abbellito guardate un po' mare blu bene amici cari avete visto Gennaro sempre quello di tutorial semplici però è di affetto perché può servire in un vostro video molto corto ovviamente scusatemi ma quello che si può fare in questo periodo è questo e io vi ringrazio ovviamente per aver seguito questo video che vi serva spero questo video per i vostri futuri video è un gioco di parole vi invito a iscrivervi ovviamente al seminario che terrò il 6 ottobre 2021 perché questo poi video andrà ovviamente nel calderone quindi si vedrà più avanti all'ora 20 su zoom andate su lumofusion.it o lumofusionitalia.it per costi e informazioni del programma un saluto a tutti un abbraccio a presto iscriviti ora e attiva la campanella sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video grazie grazie